Ben ritrovati, secondo video di spiegazione riguardante le forme differenziali lineari che abbiamo definito nel precedente video, abbiamo visto che cosa si intende per forma differenziale lineare e abbiamo visto come in R2, cioè due variabili, una forma differenziale lineare si indica in questo modo x grande di x, y di x più y grande di x, y di y. Questo ovviamente per n uguale 2, cioè a due variabili in R2, mentre invece per n uguale 3, ovvero a tre variabili in R3, una forma differenziale lineare si definisce in questo modo, x grande di x, y, z di x più y grande di x, y, z di y più z grande di x, y, z di z, dove ovviamente nel caso di R2, x grande e y grande sono funzioni continue, nel caso di R3, x grande, y grande e z grande sono anche queste funzioni continue. Le abbiamo quindi definite. Supponiamo a questo punto, prima di adentrarci nell'argomento di questo video, vi ricordo che abbiamo definito, abbiamo visto cosa si intende per forma differenziale lineare esatta, una forma differenziale esatta significa una forma che sia integrabile, ovvero che ammetta una primitiva. Quello che ci proponiamo di, appunto, il problema che ci proponiamo di risolvere in questo video, in quelli successivi di fornire delle condizioni atte proprio a stabilire quando una forma differenziale si dice esatta, ovvero quando è integrabile, cioè quando ammetta una primitiva e in caso affermativo, cioè qualora la ammetta, come si possa determinare in maniera pratica una primitiva di un'assegnata forma differenziale lineare. Tutto questo significa studiare una forma differenziale lineare. Supponiamo di trovarci in un insieme A che sia connesso. Andiamo subito a dare una definizione. Vi ricordo che un insieme del piano si dice connesso quando è formato da un solo pezzo, ossia se non è possibile rappresentarlo come l'unione di due o più insiemi aperti, non vuoti e disgiunti. Questa è la definizione di insieme connesso. Supponiamo di considerare, considerando, ovviamente riferendoci al caso di n uguale 2, quindi al caso delle due variabili, al caso del piano xy, ma poi tra un po' parleremo anche del caso di n uguale 3, quindi dello spazio xy, che le funzioni, il grande e il filon grande, siano definite proprio in questo campo connesso A, siano ivi continue e siano dotate delle derivate parziali, x' rispetto ad y, che si può anche indicare in questa maniera, derivata di x grande rispetto ad y, e di y' rispetto ad x, che si può anche indicare in questo modo, cioè di y grande rispetto ad x. E supponiamo che anche esse siano continue nel campo connesso A. Una forma differenziale lineare di questo tipo, quindi x grande di xy in dx più y grande di xy in dy, si definisce, si dice, si definisce chiusa se risulta la derivata di x grande fatta rispetto alla variabile y, è uguale alla derivata della funzione y grande fatta rispetto alla variabile x. E ripetendo le stesse ipotesi fatte per n uguale 2, anche per n uguale 3, una forma differenziale lineare del tipo x grande di xy in dx più y grande di xy in dy, più z grande di xy in d z, definita in r3 quindi, si definisce chiusa se sono identicamente soddisfatte le seguenti tre relazioni. La derivata della funzione x grande fatta rispetto alla variabile y deve essere uguale alla derivata della funzione y grande fatta rispetto alla variabile x. Seconda relazione, la derivata della funzione x grande fatta rispetto questa volta alla variabile z deve coincidere con la derivata della z grande fatta rispetto alla variabile x. Terza e ultima relazione, la derivata della funzione y grande fatta rispetto alla variabile z deve coincidere, deve essere pari alla derivata della z grande fatta rispetto alla variabile y. Queste pertanto sono le due condizioni di chiusura, ovviamente vale sia per forme differenziali lineari del piano xy che per forme differenziali lineari dello spazio xy e da questo punto abbiamo tutti quanti gli strumenti per andare a enunciare i seguenti due teoremi fondamentali che, ve lo ricordo, ci forniscono una condizione necessaria ma non sufficiente, e questo lo ripeteremo anche in seguito, per stabilire se è una forma differenziale lineare esatta. Ve lo ricordo ancora che significa condizione necessaria, che vuol dire che è la chiave che ci permette di aprire la porta, ovvero ci permette di affermare che la forma differenziale lineare esatta potrebbe essere esatta, ma non ci fornisce la condizione sufficiente, cioè non ci dice che se vale la condizione necessaria non abbiamo la certezza che la forma differenziale lineare sia esatta, quindi se ovviamente tale teorema, quindi se la condizione necessaria non vale, ovviamente possiamo già affermare che la forma differenziale lineare non è esatta, ma se vale non abbiamo dimostrato assolutamente nulla. Andiamo pertanto a annunciare questi due teoremi, il primo, se nel campo connesso A del piano xy le funzioni x grande e y grande sono continue e dotate delle derivate parziali x grande primo rispetto ad y e y grande primo rispetto ad x, anche se continue, la condizione necessaria affinché la forma differenziale x grande di xy in dx più y grande di xy in e y sia in A sia in A un differenziale esatto e che sia IV chiusa. Se nel campo connesso A dello spazio x, y, z le funzioni x grande, y grande e z grande sono continue e dotate delle derivate parziali x grande primo rispetto ad y, x grande primo rispetto ad z, y grande primo rispetto ad x, y grande primo rispetto ad z, z grande primo rispetto ad x e z grande primo rispetto ad y, continue anch'esse, la condizione necessaria affinché la forma differenziale x grande di x più y grande di y più z grande di z sia in A un differenziale esatto e che sia IV chiusa. Questi sono i due teoremi, i primi due teoremi fondamentali che riguardano le forme differenziali lineari e che ci forniscono una condizione solo necessaria. Fondamentale questo teorema perché comunque dovremmo sempre verificarla nello studio di una forma differenziale lineare, ma ovviamente teoremi che non ci forniscono condizioni che non interessano sufficienti atte a stabilire quando una forma differenziale lineare si dice esatta. Vedremo che dovremmo, passeremo un po' di video prima di arrivare a delle condizioni sufficienti, proprio atte a stabilire l'integrabilità di una forma differenziale lineare data assegnata, ma comunque sia, questo è un inizio, questa comunque è la condizione necessaria. Vedremo come, lo dimostreremo a breve, non è assolutamente sufficiente e lo vedremo il perché, lo proveremo. Nel prossimo video non perdetevelo, cominceremo a parlare di integrali curvilinei di seconda specie, quindi di forme differenziali lineari e enuncieremo altri importanti teoremi sempre riguardanti le forme differenziali lineari. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fate un bel pollice verso l'alto o non perdetevi pertanto il prossimo video. Vi saluto, ciao a tutti.